Oggi il cliente è abituato a utilizzare diverse tecnologie per tutto quello che fa durante l'arco della sua giornata. Prenota il treno col tablet, guarda un film registrandolo sulla tv on demand e vuole fare la stessa cosa con la banca. Le banche hanno a disposizione le tecnologie per garantire una facile interazione col cliente. Il tema è indirizzarlo a utilizzarle in maniera opportuna. La multicanalità supporta questa interazione e oggi siamo a un nuovo livello di complessità, il real time. Siamo in grado di interagire sul canale che preferisce il cliente nel momento che vuole il cliente raccogliendo tutte quelle informazioni di contesto utili a servirlo al meglio personalizzando la relazione. Cosa bisogna fare? Bisogna quindi individuare la tipologia di cliente che voglio servire al meglio, capire quali sono i suoi comportamenti, ridurre tutti quelli che si chiamano irritanti, cioè facilitare la sua capacità di interazione con la banca mettendole a disposizione quelle tecnologie che usa normalmente per sé con i suoi amici, quindi il tema del social, il mobile, mettele a disposizione anche nell'interazione con la banca e garantirgli la stessa facilità offrendoli un livello di servizio, una customer experience personalizzata. Il consiglio che mi sento di dare alle banche è quello di sperimentare sui canali digitali sempre nuovi modi di interazione con i clienti così da poter valutare quella che è la customer satisfaction. Questo mi garantisce che quando il cliente avrà bisogno di rispondere alle sue necessità e ai suoi bisogni potrà considerare la banca come quell'entità in grado di rispondere in maniera puntuale e coerente alle sue esigenze.